E' il 1571, le galè cristiane, fossero queste commerciali come quelle spagnole, genovesi e veneziane, o galè della fede come quelle dei cavalieri di Malta, sul cavallo al mare che fu dei romani con molta apprensione. Dal 1435 poi infatti, dalla caduta di Costantinopoli nelle mani del sultano, il Mediterraneo era diventato sempre più un mare islamico, i pirati maomettani, inquadrati e appoggiati dai feroci giannizzeri, dispensavano morte e saccheggi sulle coste. Non fu per niente facile al nuovo Papa Ghisleri, Pio V, dirimere le varie beghe commerciali che da sempre dividevano Spagna e Venezia, le due potenze marittime del XVI secolo, ma finalmente il 25 maggio 1571 venne proclamata in Roma la Lega Santa, un patto mediterraneo contro il giurgo. L'Europa era preda di una coltore di lugubre incertezza, l'avanzata islamica sembrava inarrestabile, ma i fatti di Malta, dove 750 cavalieri avevano tenuto testa 40.000 turchi ed infine ha respinto l'assedio che il sultano aveva posto all'isola, oltre a proiettare le loro gesta e quelle del loro condottiero lavalletto nella storia, avevano infuocato le fervi dementi dei giovani europei che non vedevano l'ora di emulare le gesta dei monaci guerrieri. Da Barcellona, le galè spagnole comandate dal fratellastro del re, Don Giovanni d'Austria, salparono la volta di La Spezia per imbarcare le truppe tedesche che il vicere di Milano aveva garantito la Lega Santa e un amico personale di Don Giovanni, Alessandro Farnese, il duca di Parma, entrambi giovani e animati da quel desiderio d'eroismo che le storie dei cavalieri con cui erano cresciuti avevano fatto insorgere in loro. Ripreso il mare dal Golfo Spezzino, il giovane comandante si diresse a Civitavecchia per incontrare il Papa e ricevere da Pio V, oltre alla benedizione, lo stendardo con il croce fisso, emblema che avrebbe contraddistinto durante la battaglia la sua miraglia, la Real. Lasciata Civitavecchia, la flotta si diresse verso il porto di Messina. Il turco intanto teneva sotto assedio l'isola veneziana di Cipro. Micosi era già caduta e la testa del Dandolo, regente della città, portata in Maca a Brodono a Marcantonio Bragadin, che a fama Agosta non dava segni di resa, anzi, intratteneva con gli assalitori della mezzaluna una dura resistenza. Purtroppo la caduta di Famagosta era vicina e non bastò neanche la resa delle armi ad impedire agli schagnozzi del sultano di seccheggiarla. Barbara Furia fu poi riservata allo strano difensore. Il Bragadin venne infatti torturato e scuoiato vivo. Non contento il marrano, volle impagliare la sua pelle per esporla nella città divenuta islamica. Fu così che da Venezia presero un largo 105 galee e 6 goffe galeazze al comando di Sebastiano Venier. Un irrascibile aristocratico veneziano, avanti con l'età ma dal carattere indomito, un grande esperto di cose da amare. Costeggiando la penisola ai legni della Serenissima giunsero a Messina, dove si era dato appuntamento la flotta della Lega. Nel frattempo le carovane del mare del rinegato calabreso Occhialì il Tignoso e di Carascosa, che avevano passato l'estate a saccheggiare le coste adriatiche, facevano rotta verso il golfo di Lepanto, dove l'avrebbe attese l'ammiraglio Agli Pasha, convinto di svernare nel riparato golfo. Occhialì non si fece scappare l'occasione di assaltare la veneziana Corfu, non riuscendo a conquistarla ma infliggendo ai cittadini offese ai corpi e alle anime. Li riuniti saranno raggiunti dalla flotta proveniente dall'Egitto, comandata da Momento Scirocco, così chiamato perché proveniva da sud-est come il noto vento e per non confonderlo con i già troppi Mehmed. Finalmente da Messina la flotta della Lega Santa, ora il completo con le galè di Gianandrea Doria, Salpa alla volta di Corfu, decise a portare aiuto a Cipro, che si credeva ancora resistente. Durante il tragitto furono apportate alcune modifiche ai cannoni di corsia, i quali, privati del disturbo dato dal rostro di purica memoria, erano pronti a far fuoco sulla linea di galleggiamento delle navi nemiche. Trovare Corfu saccheggiata destò molta sorpresa, ma qui giungerà anche la notizia della resa di fama agosta e delle ingiustizie subite dal Bragadin. La flotta cristiana salpò perciò per lei panto alla caccia del nemico islamico, animata da rabbia e sete di vendetta. Alle otto del mattino di domenica 7 ottobre la flotta cristiana aveva già preso messa e l'equipaggio di mare e di armi si era comunicato ricevendo così un'indulgenza plenaria. Alla vista del nemico furono liberati dai ceppi i rematori cristiani. Combattendo avrebbero ritrovato la libertà. La flotta islamica era immensa, più di 222 galee e 60 galeotte mosse da più di 41.000 rematori per portare alla guerra 34.000 soldati. Lo schieramento scelto dall'ammiraglio Alipascia era quello classico delle grandi battaglie, due folte ali a dritta e ababordo intette da cerchiare la flotta nemica e l'ammiraglio al centro visibile dalle ali per impartire comandi visivi. L'alà di dritta era stata affidata a Mahometto Scirocco, pratico dei bassi fondali del golfo e dotato di numerose felucche, imbarcazioni leggere e con poco pescaggio, adatta da cerchiare le più ingombranti galee. Quella di ababordo era invece il comando di Occhialì, forse il più esperto dei capitani ottomani. Anche la flotta cristiana era enorme, ma disposta in lunghezza e benché navigasse compatta aveva creato tre enormi blocchi. Al comando delle imbarcazioni della Lega c'era Don Giovanni d'Austria con la Real, posizionata al centro dello schieramento. A suo fianco il veneziano Sebastiano Venier e Marcantonio Colonna il comandante delle galee pontificia. Il blocco di babordo, composto da galee veneziane, era il comando di Agostino Barbarigo. Questi aveva assegnato le ultime galee sottocosta al Querini, che aveva appena preso della morte del giovane figlio a Famagosta. Motivazioni personali e sacrificio per la fede si mescoleranno nel sangue e nell'acqua solata del golfo di Lepanto. Il blocco di dritta era invece a pannazzo del genovese Gianandrea Doria, scaltro navigatore, che aveva messo le sue galee a disposizione di Filippo II. Precedevano la flotta alle sei imponenti galeazze veneziane, poco manovrabili e tozze, abbastanza da essere scambiate per navi da carico. Ma queste, una vera e propria arma segreta messa a punto nell'arsenale della Serenissima, erano tutt'altro. Paragonabili alle moderne corazzate, erano dotate di numerosi cannoni laterali, mai visti in battaglia. Le galee avevano infatti solo il cannone di corsia a prua. La decisione dell'ammiraglio turco di lasciarle stare per concentrarsi sulla flotta fu decisiva per la battaglia. Infatti non appena gli enormi legni furono circondati e si riversarono a dritta a babordo un vero inferno di cannonate, che avrebbero scompaginato l'inquadratura della flotta islamica e portato danni irreparabili alla stessa. La battaglia era iniziata, ma omito scirocco ed il barbaigo si sfidavano sul lato nord del golfo, dove il vantaggio del turco sul veneziano era dato dalle veloci e sfuggenti feluche, che, passando sui bassi fondali, inaccessibili anche all'agguerito Querini, trovarono il modo di agirarlo. Il faticoso rientro delle galeazze, comandato dai fratelli Bragadin, desiderosi di vendetta per la trista sorte di Marco Antonia Famagosta, e un'improvvisa insurrezione degli schiavi cristiani e remi della galea di Scirocco, rovesciarono la situazione, dando la vittoria a un moribondo barbarigo, che lasciò il suo blocco ormai vittorioso nelle mani di Federico Nani. Nel frattempo, sulla sponda sud del golfo, lo scaltro d'Oria si era sganciato dallo schieramento ed aveva intrapreso con occhiali, altro e tanto scaltro, un duello a distanza, che li avrebbe portati senza sparare un colpo in alto mare, lontano dalla battaglia e vicino all'incolumità delle rispettive galee. Al centro, contrariamente alla solita disciplina delle battaglie navali che vedeva i comandanti defilati per gestire la strategia, le due ammiraglie di Don Giovanni e delle Pascià si cercarono e facilmente si trovarono scontrandosi a vicenda, creando una vera e propria isola di legno nel mezzo del golfo. La battaglia navale si era così trasformata in una guerra di terra e i giannizzeri e i terci si sfidavano a colpi di frecce di archibugi, ricevendo continuo supporto dal loro retro. Gli armi cristiane però la meglio e ucciso l'ammiraglio Pascià, i malandati resti della flotta islamica, ben pensato di fuggire. La battaglia era vinta al dominio islamico del mare, era finito oggi.